Grazie Presidente, innanzitutto volevo dire, iniziando a discutere quest'ordine del giorno che ha la mia prima firma come gli altri successivi, ma che come, non so se ha letto le firme, ma è stato sottoscritto sia dalla maggioranza che da alcuni esponenti del Partito Democratico e che è frutto, questo come quelli che vengono dopo, di un lavoro fatto in Commissione. Quindi mi dispiace che qualcuno venga ad accusare la maggioranza di non voler accogliere le offerte o le proposte di una parte politica. Questo perché noi siamo abituati, come spesso accade in Commissione urbanistica, a lavorare tutti insieme. Quindi nelle idee che ci vedono d'accordo le si condivide e poi le si portano insieme in aula proprio per dare maggiore forza a queste idee. Quindi, come mi è capitato fare anche in altre occasioni, ho fatto tesoro delle discussioni che sono avvenute in Commissione urbanistica, nella quale, ricordo, hanno partecipato la Presidente del Municipio, dell'Assessore del Bello, l'Assessore all'Urbanistica e nella seconda Commissione che abbiamo fatto anche le associazioni, tra cui Carta in Regola, che hanno preso anche la parola e hanno avuto modo quindi di riportare in seno ai lavori della Commissione i loro punti di vista, che sono stati anche... c'è stato quindi un dibattito, un confronto assolutamente aperto e democratico. Quindi mi dispiace che in quest'Aula si venga poi a dire che noi non accettiamo le proposte, tant'è vero che questi atti che io ho presentato sono stati proposti a tutti, non al PD o non a Fratelli d'Italia. Però si è deciso, come nelle loro prerogative, di andare avanti sugli ordini del giorno loro e non sottoscrivere quelli comuni, ebbene così. Abbiamo votato no perché alcune delle cose che in qualche modo erano presenti anche negli ordini del giorno delle opposizioni, noi le abbiamo rimesse nei nostri anche in maniera più ferma e decisa, perché negli ordini del giorno delle opposizioni c'era scritto di valutare la possibilità, invece noi abbiamo presentato degli atti molto più, mi consenta di dirlo, cogenti, perché abbiamo dato dei tempi, perché per noi è importante arrivare all'approvazione dell'atto, come ho detto prima, avendo mandato avanti tutti i percorsi necessari per arrivare ad una progettualità sulle parti comuni e quindi mi dispiace, allora ribalto, che le opposizioni non abbiano voluto loro cogliere l'occasione di fare un lavoro congiunto. E non lo facciamo perché noi non vogliamo accogliere proposte altrui, perché il metodo che ci eravamo dati era differente. E vengo al primo ordine del giorno che riguarda proprio il comparto B, il famoso comparto B di cui abbiamo parlato più volte. In questo ordine del giorno noi diamo indirizzo per il tramite della sindaca degli assessori competenti agli uffici affinché per la realizzazione del comparto B, quello destinato appunto alla cosiddetta città della scienza, vengano preferiti nella valutazione delle scelte progettuali che verranno fuori dal bando di concorso, quegli interventi che privilegieranno appunto il recupero delle strutture esistenti, che per noi sono degli esempi importanti di archeologia industriale e comunque testimoniano la storia di quel quartiere, di quel quadrante, della presenza in quell'area comunque delle caserme, appunto chiediamo di privilegiare interventi di recupero delle strutture esistenti, limitando invece quelli che potrebbero essere gli interventi di sostituzione edilizia tramite demolizione e ricostruzione. Mi sembra che anche questo sia un ordine del giorno che va nella direzione delle indicazioni che sono venute dagli associazioni e dei comitati e dal territorio che hanno preso parte al processo partecipativo che si è svolto nel 2017. Anche perché, e chiudo con questo, ricordo che la delibera fissa un tetto massimo di 27.000 metri quadri per la città della scienza, ma non è detto che questi 27.000 metri quadri vadano tutti utilizzati. Grazie.